sono molto felice di essere questa sera vivo valenza nelle calabrie per poter parlare dei temi a me cari della filosofia e del suo rapporto con la società globalizzata contemporanea nel mio intervento cercherò principalmente di mettere in luce le contraddizioni in cui si avviluppa il globalismo inteso non soltanto come un processo economico materiale di globalizzazione planetaria dei mercati ma anche come ideologia come visione del mondo cosmopolitizzante in forza della quale tutto ciò che è locale deve essere superato a beneficio di un mondo senza più confini vissuto come emancipativo ma in realtà tale da produrre un abbassamento delle condizioni generali delle popolazioni mondiali dei laboratori a tal punto che io ho coniato anche nel mio libro pensare altrimenti l'espressione globalizzazione cioè la globalizzazione sta producendo la nuova servitù della globalizzazione cioè i nuovi servi planetari senza diritti e condannati a un abbassamento costante delle condizioni salariali contrattuali e di lavoro grazie al gioco della competitività senza confine e 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